Siamo qui con Pasquale Monti di Enel Energia e parliamo di una novità, ossia all'interno dell'azienda è stata aperta una divisione dedicata proprio all'efficienza energetica, certificati bianchi e a tutto ciò che riguarda questi aspetti. Può delinearci di cosa si tratta? Certo, l'attenzione al mondo dell'efficienza energetica è sempre stata nel DNA di Enel, l'Enel si è sempre occupato dal risparmio energetico all'uso razionale dell'energia e all'efficienza energetica, ora questa diventa un'esigenza di portare l'esperienza italiana a livello mondo, una divisione globale che porterà le best practice presenti in tutti i paesi in cui siamo presenti come Enel, condividerà queste esperienze e renderà disponibili a tutti. Quindi una nuova divisione che sarà focalizzata sul mondo dell'efficienza energetica nell'industria, sul mondo delle smart city, sul mondo della trazione elettrica, dei veicoli elettrici, dei sistemi di ricarica che sono un'area interessantissima in grandissima espansione e anche al tema dell'efficienza energetica nelle case dove c'è ancora tanto che si può fare sia in Italia ma soprattutto all'estero dove c'è un mercato enorme per gli interventi che si possono portare avanti.